17 arresti per truffa alle assicurazioni. Tra i nomi spicca quello dell'avvocato Brindisino Silvia Bellino di 38 anni, coinvolta nell'indagine insieme ad altri professionisti, un medico, un praticante avvocato, un avvocato di Fasano ed altri 224 indagati a piede libero. Per 7 degli arrestati si sono aperte le porte del carcere di Brindisi. Si tratta dei Brindisini Cristiano Stuni di 24 anni, Danio Maisto di 35 anni, Domenico Pascariello di 42 anni, Egizio Gianluca Maisto di 39 anni, Pietro Ciciriello di 46 anni, Diego Stuni di 38 anni. 10 invece gli arrestati ai domiciliari. Il già citato avvocato Bellino Antonio Miletti, 40 anni, di Fasano, il 43enne Brindisino Davide Antonio Gionfalo, il medico della ASL Franco Zizzi, 56enne, di Fasano, Giuseppe Scuteri, 42 anni, Giussi D'Amico, 27 anni, Guido Trane, 53 anni, Antonio Stuni, 44 anni, Adamo Sardella, 43 anni, Antonio Sardella, 66 anni, Natale Sardella, 38 anni, tutti di Brindisi e Vanda Spinosa, 29enne di Giuliano. Gli arrestati sono quindi accusati di truffa aggravata e continuata, mentre per i professionisti si aggiungono i reati di corruzione, falso ideologico in atto pubblico e falso materiale. Per alcuni degli arrestati più abituati nella reiterazione, l'accusa è anche di associazione a delinquere. Le ordinanze, scaturite dalle indagini dell'operazione Poncio, così chiamata dal termine dialettale Brindisino, che indica proprio le truffe assicurative, sono state notificate questa mattina alle prime luci dell'alba dei militari del nucleo di polizia tributaria della Compagnia della Guardia di Finanza di Brindisi, su disposizione del giudice per le indagini preliminari Valerio Fracassi e su richiesta del procuratore aggiunto Nicolangelo Ghizzardi. Sono comprensive del sequestro preventivo di 217.250 euro trovati nell'abitazione del dottor Franco Zizi, che nel particolare è anche accusato, in qualità di dipendente ASL, di aver truffato l'azienda. Nel corso delle perquisizioni, i finanzieri hanno trovato anche attrezzatura per la realizzazione di materiale cartaceo, come certificati medici, moduli per i giorni di malattia e altri documenti. L'inchiesta delle fiamme gialle è partita nel gennaio del 2009, concludendosi nei primi mesi del 2011. In questo arco di tempo, le indagini che si sono avvalse di intercettazioni ambientali e telefoniche hanno permesso di rilevare 81 falsi incidenti, in 13 dei quali è stata utilizzata la stessa automobile, peraltro già rottamata mentre era coinvolta nelle truffe una miriade di false dichiarazioni che avevano fruttato ai truffatori guadagni pari a 293.000 euro liquidati dalle compagnie assicurative. Con tutta probabilità, questo malcostume ha contribuito non poco all'aumento dei premi assicurativi nella città e nella provincia di Brindisi che restano i più alti della regione.